Con una pensione normale in Italia non riesci ad avere una vita decorosa, vivi agli estremi e ai bordi della società, qui invece con la mia pensione vivo al centro della società. Quasi mettete i soldi da parte? Sì, è vero. Riusciamo a mettere i soldi da parte perché io prendo 650 euro di pensione. E la signora ha la pensione? No, io sono a suo carico. Mai più io, mai più ritorno in Italia. Ma neanche in feri tornerò più in Italia. Neanche in feri. Neanche più in feri.